Dice, vedevo che sorrideva sul tema moderna, pensa che dovremmo investire un po' di più su moderna come Italia? Ma io credo che qualche cosa andrà fatto per correggere, costerà caro e salato ma pazienza, per correggere il tipo di approvvigionamento che fino ad adesso è stato garantito. Credo che non si possa fare altrimenti ai noi, andrà credo a finire così. Il collega fa l'oncologo e tra l'altro ha un'esperienza dell'approccio con mRNA anche per patologie oncologiche, è tutta un'altra storia ma molto affascinante, per cui voglio dire, in questo caso induciamo con un vaccino ad mRNA cellule nostre a produrre antigeni del virus contro i quali il nostro sistema immunitario si attiva. Nel caso invece dei tumori si ha un altro approccio che però va più o meno con la stessa modalità che va nella stessa direzione. Sì, professore, sento su questo.